Lei è Elena. Fabio. E c'era? Questa l'ha fatta un mese fa. È l'unica che abbiamo. Maschio o femmina? Non si sa. Il bambino era di spalle, non si vedeva. Stai tranquillo, se c'erano problemi non me la mandava. Parli l'italiano, vero? Sì. Adesso devi fare degli esami. E se tutto va bene ci sono 8.000 euro per te. 10.000. Va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti